Non sposare lui! Sposa me! Con Mobilia Megastore ti sposi subito e meglio. Avrai a disposizione un wedding planner per aiutarti a organizzare l'evento. E si paga tutto a rate in 48 mesi e interessi zero! E questa dove l'hai presa? Te l'ho detto! Pensa tutto Mobilia Megastore, dai! Con l'operazione Wedding by Mobilia dire di sì è più facile. E tutto quello che occorre per sposarti lo paghi comodamente a rate. Te l'avevo detto! Andavamo da Mobilia Megastore! Ma mamma! Prossimi sposi! Mobilia Megastore vi aspetta tutti i giorni a Caserta Sud e Salerno Est.